Sono Cristofo Grosset, responsabile Certificates di Unicredit, qui a Consulenzia 2016, cosa vi aspettate da questa tre giorni e quanto è importante il ruolo della consulenza oggi in questi mercati difficili? In realtà è la terza edizione di Consulenzia, noi siamo qui dalla prima, dunque è un incontro che è diventato anno, allo momento di condividere, l'elemento che differenzia questa manifestazione è sicuramente la qualità degli interventi da macroeconomisti a dibattito che non sono spessi visti nella professione, dunque tra le varie rete, noi siamo qui sicuramente per incontrare il promotore, che incontriamo già spesso nelle varie sezioni di formazione per i quali abbiamo creato anche servizi ad hoc come la nostra nuova newsletter Focus Certificates, la motivazione di tutto questo è anche il fatto che nel nostro mercato che sta crescendo, perché ricordo che l'anno scorso sono stati sottoscritti oltre 10 miliardi, cioè un rialzo del 25% rispetto al 2014, di più forte rialzo, stimiamo che la quota del promotore si attesta del consulente sul 17-18% del mercato, che le pone a un livello superiore della quota di mercato generale della promozione finanziaria, che in Italia possiamo stimare tra il 12 e il 14%, dunque un interesse particolare del consulente per il licitativo di investimento, anche perché le consente di andare a offrire una soluzione a valore aggiunto per il cliente. L'elemento che ha attirato i volumi negli ultimi mesi è stato sicuramente la possibilità di offrire rendimenti del 3-4% trimestrale, cioè annualizzato stiamo parlando di un 12-14%, con rischi contenuti che si hanno con i bonus certificates o con i cash collect, l'incontro con la professione e anche il scambio diretto è anche importante, lo stiamo parlando o con incontri così diretti o corsi di formazione, ma anche con i nostri webinar, perché spesso ci porta anche a innovare nei nostri prodotti e lì sto in particolare pensando alla richiesta che ci è arrivato di offrire dei cash collect, cash collect ricordo questi strumenti che ogni trimestre vanno a staccare dei coupon dell'ordine del 3-4%, che è interessante nel nostro contesto di mercato, ci è venuto nella seconda parte dell'anno scorso la richiesta di offrire nuovi strumenti più lunghi, abbiamo lanciato il cash collect for stuff con coupon garantiti per due primi anni, nell'ordine del 9-10% che sono pagati in ogni caso e sicuramente il terzo anno ritorniamo sul mondo del work stuff, dunque dove entra in gioco una protezione del 30%. Oggi siamo anche qui perché abbiamo due attualità, il lancio dei certificati mini futures, dunque del mondo della leva e l'altra è che oggi parte la nostra OPV, questo segmento nel cui credo che nei prossimi mesi, c'è già avviato l'anno scorso, ma credo che nei prossimi mesi avrà un successo, cioè la possibilità di sottoscrivere direttamente tramite una trazione in borsa un certificato in collocamento, dunque non più solo a una sola rete, ma offerte a tanti e dunque io credo che sia lì il futuro anche della consulenza e la possibilità per il conto di andare a scegliere dei prodotti, per questo mettiamo a disposizione servizi come la Focus Certificates e prodotti tramite l'OPV, cash collect e naturalmente il collocamento abituale. Grazie Cristofo Glossia di Unicredit. Grazie a voi.